Stimatissimi Vapers, benvenuti a un nuovo video in compagnia di Moreno. Oggi entriamo in casa gas mode e parleremo del GR1. Aperta la confezione del nostro GR1 troviamo questo atomizzatore da 22 mm. Qualcosa veramente molto interessante, ho fatto parecchie ricerche su questo atomizzatore e ho trovato un bellissimo compromesso. Qualità, aroma, uguale prezzo. Indubbiamente un atomizzatore che io lo considero di fascia alta ma a un prezzo veramente contenuto. Ma guardiamo i dettagli. Le parti di ricambio, le cosiddette spar part, sono veramente generose. Troviamo due O-ring per la tenuta del nostro deck. Un O-ring più minuto, sempre di colore nero per la chiusura del nostro tip con attacco 510. Un pin fisso, il pin BF già preinstallato, una vitina con inserto a croce per la chiusura delle nostre torrette che poi vi faccio vedere sul nostro atomizzatore. Due vitine per la chiusura delle nostre coil e molteplici O-ring in silicone trasparente. E ci sono due sezioni plastiche che poi vi faccio vedere a cosa servono. Al suo interno troviamo anche due chiavette esagonali. Uno per la chiusura delle torrette e uno per andare a sostituire il vostro pin da fisso a bottom feeder. E un adesivo, questo è il logo della Gas Mods. Eccolo qui, il nostro GR1 by Gas Mods. Atomizzatore da flower, ma non solo. In modalità 22 mm, il materiale esterno è il POM, regala un discreto isolamento al calore, questa è la parte bassa. Acciaio 316 satinato, GR1 serializzato, 0652, design by Gas Mods. Cosa che, secondo il mio modesto punto di vista, regala indubbiamente del valore aggiunto, la possibilità di poter togliere la torretta tramite questa vite per una pulizia più accorata. Ho già preinstallato il mio pin BF, buono l'isolamento esterno al pin stesso. E questo è il nostro atomizzatore, il GR1. Ma andiamo a fare le sue misure e poi vediamo le sue particolarità. Il GR1 by Gas Mods ha un diametro di 22 mm. Con il suo pin originale siamo quasi a 21 mm. Le asole hanno una lunghezza di quasi 5 mm, 4.93, e sono alte ben 2 mm. Il nostro atomizzatore si presenta in semplici tre parti. Abbiamo il nostro tip, abbiamo visto in precedenza, uno ring di tenuta, attacco 510, il materiale utilizzato è il POM, la nostra campana, il nostro cap, abbiamo detto scusate le gocce ma ho appena lavato l'atomizzatore. Il POM io l'ho già testato parecchio, devo dire che si comporta bene. Avrei preferito una soluzione con una campana in acciaio, ma questo è solo per una questione personale. Per i materiali plastici ti tubo un po', però devo dire che fa veramente bene il suo mestiere. Ci sono diversi kit con diverse tipologie plastiche da poter andare eventualmente come optional a sostituire la campana stessa. La sua lavorazione interna è fatta bene, con questo super asola ci permette la regolazione dello stesso, ma andiamo a vedere il cuore. Questo è il cuore del nostro GR1 by Gas Mods, come potete vedere la dicitura laser impressa sopra. E' già preinstallato il PIM BF, come potete notare la particolarità, ci sono queste due particolari sezioni, una e due. E vi viene dato preinstallato con queste due soluzioni, che ci sono due forellini, che vi permettono come potete notare il flusso dell'aria che venga convogliato da questa asola, venga poi ristretto da questi due fori e portato esattamente nella parte bassa della nostra coil. Tazza buona, la sua profondità, quasi 5 mm e 8, queste due classiche asole per la predisposizione del posizionamento del nostro jig. E questi due inserti che vi ho fatto vedere, si possono sostituire questi inserti con dei segmenti che vi offrono un'aspirazione molto più ampia. Ho avuto modo di testarlo in entrambe le configurazioni, in modalità Flavor mi piace tantissimo questa soluzione qui. E' questo acciaio con doppio ring di tenuta, che vi garantisce veramente una bella tenuta serrata, l'atomizzatore non fischia, belle le viti fatte veramente bene e come vedete lo scanso per la chiusura delle nostre coil è veramente abbondante, quindi come vi dicevo in precedenza vi permetterà di poter utilizzare coil anche di natura complessa. Se devo dare diciamo un credito, un punto negativo, mi dispiace solo che questi piccoli sistemini d'aria messi all'interno non sono fatti in acciaio ma sono di materiale plastico. Questo secondo me a lungo andare potrebbe deficitare un po' la durata dell'atomizzatore stesso. L'abbiamo visto, prepariamoci a fare la nostra rigenerazione e lo testiamo. Questa è la coil che andrò a utilizzare, è il mio classico Nikron 25 gouge, sono 7 spire, 6 spire piene e 2 mezze, su una punta da 2.5. Ecco, dopo l'attivazione della coil come vedete ho avvicinato le spire per portarle direttamente nelle due sezioni da me utilizzate per l'aria. Ho leggermente alzato la coil stessa per evitare che le mie leg non andassero ad appoggiarsi nei sistemi plastici dell'aspirazione. Abbiamo quasi 0,6 ohm. Andiamo a inserire il nostro cotone. Ecco, questo è a grandi linee la quantità di cotone che andrò a utilizzare sul nostro GR1. Il nostro deck ha una vaschetta veramente profonda. La quantità di cotone che ho inserito, devo dire, potevo anche montarne di più, ma ho preferito ottenere la soluzione più spumosa per agevolare un flusso maggiore di liquido all'interno della coil. Come mia consuetudine, quando parliamo di un atomizzatore con Natura modalità BF, è testare anche come funziona il sistema Button Feeder. Il liquido arriva tranquillamente al nostro cotone, si sta imbevendo regolarmente e non ne fuoriesce. Atomizzatore installato, valore resistivo circa 0,6 ohm, 24 watt per poterlo pilotare con 3.8 volt. Ricordo che quello a grandi linee è il voltaggio che poi alla fin fine avrete dalla vostra batteria, dalla vostra 18650. Facciamo una piccola attivazione per vedere la sua reattività, beh, direi notevole, nonostante che abbiamo un valore di impedenza di 0,6 ohm. Mi tengo tutte e due le asole aperte al massimo. L'ho montato e lo testiamo subito. Devo dire che si comporta molto bene. Lo sto testando con un RY4, in questo momento, con questa piccola aromatizzazione alla liquidizia. Io di solito questo atomizzatore qua gli monto su un piccolo kit. Non è dato in dotazione, ma mi piaceva molto l'effetto, il design che gli viene applicato. Gli monto su un piccolo anellino, salva goccia, fatto in nylon. Che vedete si presta molto bene, sia per la protezione di evitare eventualmente di graffiare la vostra box, che anche per il fattore estetico, perché va a togliere quel piccolo anellino costituito dall'unica parte in acciaio che fuoriesce, che si vede. Montando su questo discorso estetico qua, indubbiamente diventa più accattivante il nostro GR1. Se vi è piaciuto il video, come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, perché voi siete la mia energia. Voi siete la mia 18650. E un saluto anche dalle mie mani. GR1, 22 mm RDA, da Flavor, ma non solo. By Gas Mod. Io ci farei un pensierino.